Non ancora, come si dice, non scrive, non telefona. Scherza Emiliano sulla mancata risposta di Renzi alla nota inviata qualche giorno fa sul successore della segreteria PD pugliese. Subito dopo però si fa serio e agita lo spettro di oscuri manovratori dietro il congresso regionale del PD. Non vorrei che qualcuno stesse pensando di utilizzare il congresso pugliese per altre ragioni. Il congresso pugliese serve a trovare il segretario della Puglia, appunto. E io sono il garante di questo percorso. Il riferimento non è chiaro ma sembra diretto ai mediatori pugliesi, sindaci onorevoli e parlamentari regionali che anziché metter pace hanno fomentato lo scontro tra il governatore ed il premier. Emiliano andrà avanti per la sua strada, non vuol sentir parlare di commissariamento da Roma e nemmeno di slittamento della data delle primarie. Innanzitutto è necessario, se dobbiamo fare uno spostamento di qualunque genere, che io incontri il segretario nazionale e lui mi spieghi perché vuole spostare la data, dopo che io devo andare in assemblea, devo chiedere all'assemblea se è d'accordo sullo spostamento della data. Io ho già dato la mia disponibilità a Renzi nella lettera, eventualmente se è proprio necessario spostare la data per la presentazione delle candidature, a spostarla, non quella sulla data, no, quella credo sia inutile.